Cinque vigili del fuoco del comando provinciale di Arezzo in autoisolamento all'interno della caserma di Via degli Accolti. Sono stati infatti loro ad entrare in contatto con il camionista ferito nell'incidente dell'autostrada del Sole, risultato poi positivo al coronavirus. L'incidente si era verificato venerdì mattina lungo la 1. L'uomo era rimasto incastrato nell'abitacolo del furgone che si era ribaltato all'altezza di Badia Alpino. Si era così reso necessario all'intervento dei pompieri che lo avevano estratto dalle lamiere. L'uomo era stato poi trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Lescotte di Siena. Qui dai controlli successivi era stata riscontrata la positività del camionista al covid-19. I vigili del fuoco intervenuti erano già comunque tutti in possesso e con addosso i dispositivi di protezione previsti anche durante l'intervento. Per loro è comunque scattato come previsto dalle disposizioni l'autoconfinamento. Si trovano dunque in un locale dedicato della caserma con un accesso riservato e diretto e anche con il medico interno a disposizione. Restano adesso in attesa di nuove disposizioni dal servizio sanitario regionale. Sono già stati sanificati tutti gli ambienti e i mezzi dello stesso comando. Stessa misura prevista anche per i soccorritori del 118 arrivati in ambulanza per quelli che hanno trasportato l'uomo contagiato alle scotte con l'elicottero Pegaso e per i poliziotti della stradale di battifolle intervenuti sul posto.